Regione sotto attacco sui punti nascita D'Alfonso e Paolucci vanno sotto e fuori in centinaia tentano di invadere l'aula Cronaca muore per overdose in una camera d'albergo Arrestato un altro ospite Colle atterrato Liliana si sente male e senza ascensore Stamattina il ricovero al Mazzini diventa un'odissea Lezione all'università, la tragedia del Tribunale di Milano Preoccupa il vicepresidente del CSM Legnini Con le parco non più dormitorio entro l'anno arrivano nuovi campi sportivi, parcheggi e piazza Giunta comunale di Teramo, Brucchi riduca subito i costi dei nove assessori Lo chiede Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale Sport e calcio, il Teramo verso la B? Per il giugliese doc Francesco Giorgini, una società forte fa la differenza Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teponte Apriamo il nostro telegiornale con la pagina regionale C'è stata attenzione oggi all'emiciclo all'Aquila Per la seduta del Consiglio regionale In cui si discuteva anche della chiusura dei punti nascita C'è stato un tentativo di invasione dell'aula Davvero tanti manifestanti che però portano a casa un risultato E partiamo proprio da qui La maggioranza di centro-sinistra va sotto sui punti nascita Il Consiglio regionale ha infatti approvato la risoluzione urgente Presentata dalle opposizioni con la quale si invita il Presidente Della Giunta regionale e Commissario ad Acta della Sanità D'Alfonso a mantenere aperti i punti nascita di Sulmona, Ortona, Atri e Penne La cui chiusura è sancita dal decreto dello stesso commissario E garantire la sicurezza per neonati e donne con iniziative specifiche E contestualmente a sospendere e riesaminare il decreto di chiusura I consiglieri di maggioranza che hanno votato con le opposizioni di centro-destra E del Movimento 5 Stelle sono Lorenzo Berardinetti di Regione Facile Gero Solimo e Olivieri di Abruzzo Civico E Monticelli e Pietrucci del Partito Democratico Sui 31 votanti 17 hanno votato a favore e 14 contro I voti contrari di D'Alfonso e di Paolucci sono stati salutati dai fischi La votazione nominale si è svolta in un clima da stadio alimentato dal tifo delle decine di amministratori Che affollano l'aula consigliare L'approvazione è stata salutata da un lungo applauso Al termine della votazione ha preso la parola il consigliere regionale del PD Nonché sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Camillo D'Alessandro Il quale spesso interrotto dai fischi ha sottolineato che la verità verrà a galla Il confronto, le cariche di demagogia, la democrazia e le contestazioni Nascono dalla difesa dell'esistente e da incomprensioni Essere riformisti, ha continuato D'Alessandro, significa essere coraggiosi E poi D'Alessandro ha spiegato come il presidente governo di centrodestra Con la loro presidente Gianni Chiodi Pur avendo attivato l'iter per la chiusura dei punti nascita Non ha firmato il decreto La seduta sta continuando con l'esame dell'emendamento presentato dalla maggioranza di centrosinistra Il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio Ha dovuto spesso invitare i sindaci al rispetto E quindi a non interrompere gli interventi dei consiglieri regionali Dunque va avanti il consiglio regionale Ma poco prima di questa votazione Circa 300 persone hanno superato i cancelli di recinzione di Palazzo dell'emicirco E sono arrivati a pochi metri dall'entrata nell'aula consigliare Dove la seduta del consiglio appunto stava decidendo sulla risoluzione sui punti nasciti I manifestanti muniti di bandiere e trombe hanno nuovamente attaccato con slogan molto duri La maggioranza di centrosinistra In particolare l'assessore alla sanità Paolucci Ad alimentare la protesta e soprattutto la rappresentanza che è arrivata all'Aquila da Sulmona Alcuni manifestanti hanno sottolineato che i cancelli non sono stati forzati Ma che qualcuno li ha aperti per fare entrare i manifestanti A tenere seppure con difficoltà i manifestanti che sottolinano peraltro di voler protestare pacificamente E un cordone di poliziotti in tenuta antisommossa che rispetto alle ore precedenti E' stato poi via via rafforzato E ancora il consiglio regionale ha respinto alla risoluzione presentata dalle minoranze Che invece chiedeva in questo caso l'intervento della giunta regionale Per bloccare la firma dei decreti autorizzativi all'installazione dell'impianto petrolifero Definito Ombrina Mare 2 che dovrebbe sorgere poche miglia a largo del litorale della provincia di Chieti Durante la lunga discussione è stato tentato di approvare un documento unitario Come richiesto dal presidente della giunta regionale D'Alfonso E per il Movimento 5 Stelle in una nota Il Movimento 5 Stelle dice La maggioranza boccia la risoluzione che blocca Ombrina Il presidente D'Alfonso non ci difende dagli UFO La cronaca un giovane marocchino è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Giulianova Per le ferite riportate nella caduta dal treno dal quale si è lanciato Sembra per evitare di essere bloccato dal controllore che lo aveva scoperto dopo il furto di un portafogli Sull'episodio stanno indagando gli agenti della polizia ferroviaria Anche se la dinamica dell'incidente non è ancora chiara L'episodio si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Tortoreto Lido L'extracomunitario ha in sostanza anticipato la discesa dal treno Cadendo dal convoglio in corsa E' stato soccorso dal personale del 118 e trasferito all'ospedale di Giulianova Un 41enne di Nereto è stato trovato senza vita a causa di una verdose Nella sua stanza d'albergo a Mosciano Sant'Angelo Arrestato un altro ospite della struttura Trovati nella sua camera 65 grammi di eroina Vediamo il servizio Lo hanno trovato senza vita nel letto della sua camera all'interno di una locanda di Marina di Mosciano Sant'Angelo Il medico legale ha accertato che il decesso di Cristian Bertozzi, 41 anni, di Nereto E' stato causato da un overdose di stupefacenti I carabinieri della compagnia di Giulianova Intervenuti su richiesta del personale del 118 Hanno avviato subito le indagini Per individuare la provenienza dello stupefacente La zona è stata isolata E sono state verificate le presenze nella struttura Che ospita un gran numero di persone disagiate Nel corso di una di queste perquisizioni In un'altra camera dell'albergo I militari hanno rinvenuto 65 grammi di eroina Del tipo Brown Sugar Un bilancino di precisione E materiale per il confezionamento delle dosi L'occupante della camera Giovanni Baiocco, 54enne di Penna Sant'Andrea Che ha gli arresti domiciliari nella struttura E' stato accompagnato in caserma Per gli accertamenti di rito E' arrestato per detenzione a fini di spaccio Di sostanze stupefacenti Sono in corso accertamenti Che tendono a stabilire Se la vittima dell'overdose Abbia assunto stupefacente Dello stesso tipo di quello rinvenuto All'arrestato Incidente sul lavoro con conseguenze per fortuna non gravi Per un elettricista impegnato in alcuni lavori All'interno dell'azienda Faraone Incontrata Salinello a Tortoreto Un 41enne di Silvi Era impegnato nei lavori di manutenzione Dell'impianto elettrico sul cestello elevatore Quando ha aperto erroneamente la barra di sicurezza Ed è caduto al suolo Da un'altezza di circa 2 metri E' stato subito soccorso e trasferito in eliambulanza All'ospedale Mazzini di Teramo Dove i sanitari lo hanno sottoposto A tutti gli approfondamenti di rito Le sue condizioni sono serie per alcune fratture Ma non corre pericolo di vita Sull'episodio indagano i carabinieri Ennesima storia di degrado e di pericolo Nella zona della stazione ferroviaria di Alba Adriatica Ieri intorno alle 22 Tre africani si sono diretti in un bar Di via Regina Margherita E senza motivo apparente Uno di questi ha puntato un coltello Alla gola della barista Tanto da lasciarle evidente Il segno della minaccia Si sono udite grida di aiuto E' nato un tafferuglio Tanto che un condomino Scusate del piano di sopra E' sceso per capire cosa stesse succedendo Nel frattempo sono stati chiamati carabinieri Della compagnia di Alba Che con due pattuglie sono arrivati sul posto Prima del loro arrivo Però i tre africani avevano fatto perdere Le loro tracce I tre straniere avevano mostrato Tutta l'intenzione Secondo alcuni testimoni Di mettere a suo quadro il locale Tanto che avevano iniziato a tirare calci Alle vetrine Furgone a fuoco la scorsa notte A Villa Rosa di Martinsicuro In via Basso Nei pressi del centro commerciale La Torre Il mezzo di proprietà di un commerciante Si è incendiato E non si esclude la pista dolosa Il rogo è divampato intorno all'1.20 Quando qualcuno si è accorto Del furgone che stava prendendo fuoco Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco Del distaccamento di Nereto Sull'episodio indagano i carabinieri Che hanno ascoltato anche il commerciante Per capire la possibile matrice dolosa Viginanza e solidarietà Ai familiari delle vittime E dei feriti presso il Tribunale di Milano Ad esprimerla sono i magistrati terramani Che chiedono anche maggiori misure di sicurezza A tutela dell'incolumità Di tutti coloro che prestano attività Negli uffici giudiziari Anche terramani E che questa mattina Dopo i tragici fatti di Milano Si sono riuniti presso l'Aula Moro Del Tribunale di Teramo In un incontro spontaneo Al quale hanno preso parte Una trentina di magistrati togati Ed onorari Oltre al procuratore capo Antonio Guerriero Al presidente del Tribunale di Teramo Giovanni Spinosa Al rappresentante della giunta distrettuale Dell'ANM L'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo Domenico Canosa Della Federmot Massimo Biscardi E dell'Associazione Giudici di Pace Ottavio Firmani E la notizia dell'omicidio Del giudice Ciampi a Milano È arrivata durante l'Alezio Magistralis Del vicepresidente del CSM Giovanni Legnini All'Università di Teramo Dove studenti e professori Riuniti nell'Aula Magna e Giurisprudenza Hanno osservato un minuto di silenzio Noi abbiamo intervistato questa mattina Il vicepresidente del CSM Legnini Il servizio CSM e ordinamento giudiziario È il titolo dell'Alexio Magistralis Che Giovanni Legnini Vicepresidente del Consiglio Superiore Della Magistratura Ha tenuto questa mattina Nell'Aula Magna Dell'Università degli Studi di Teramo L'intervento è stato preceduto Dai saluti del Rettore Luciano D'Amico Del preside della Facoltà di Giurisprudenza Floriana Cursi E dalla professoressa di diritto costituzionale Angela Musumeci Promotrice dell'iniziativa Insieme all'Orientamento in Entrata di Ateneo Oltre agli studenti e dottoranti Dell'Università di Teramo Hanno avuto la possibilità di partecipare All'Alexio Magistralis Anche studenti degli istituti scolastici Superiore di Abruzzo Un Alexio Magistralis sul CSM L'ordinamento giudiziario Qual è il messaggio più importante Che vuole estendere la platea? Il messaggio importante è che il ruolo La funzione del Consiglio Superiore Non è solo rivolto alla tutela Delle prerogative dell'indipendenza Della credibilità della magistratura Ma è funzionale all'affermazione Della effettività dell'ordinamento Della tutela dei diritti E quindi nell'interesse dei cittadini Nonostante la sfiducia che i cittadini Ripongono nelle istituzioni Ha spiegato Legnini La magistratura gode ancora Di un'ampia fiducia da parte della popolazione Ci sono episodi Di cui noi peraltro ci occupiamo Come è doveroso che sia Di cui si occupa la magistratura penale Che non fanno bene all'ordine giudiziario Ma che sono pur sempre Casi isolati per fortuna La magistratura nonostante la sfiducia Crescente dei cittadini Nei confronti delle istituzioni Nel loro complesso Diciamo così Gode di una fiducia ancora elevata Per fortuna Che noi sentiamo il dovere Di accrescere in concreto Nell'esercizio quotidiano Delle attività consigliari Improvviso Malore ricovera un ospedale Per Liliana La donna malata di Slai Ancora senza ascensore Per colpa di una firma mancante Nella palazzina Ater di Colle Atterrato di Teramo Il suo trasferimento al Mazzini È stata una vera e propria odissea Lunga quattro piani del condominio Per questo motivo il marito È stato costretto a sospendere Lo sciopero della fame per protesta Vediamo Vergogna, 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 vergogna Vergogna fino alla fine, vergogna È disperato e deluso Tonino Il marito di Liliana La donna teramana malata di Slai Che questa mattina si è sentita male Ed è stata trasportata in ospedale dal 118 Liliana ha dovuto subire l'ennesima mortificazione Di essere trasportata per quattro piani Dentro un telo dai sanitari A causa dell'ascensore che ancora non funziona Solo una settimana fa Il marito aveva denunciato l'immobilismo Di chi deve mettere la firma mancante Per far partire il nuovissimo ascensore Realizzato nella palazzina di Colle Atterrato Dove la coppia vive Questa mattina Liliana si è sentita male Era da un po' di giorni che non andava Abbiamo dovuto chiamare il 118 Infatti loro appena la visita hanno ritenuto Immediatamente di portarla qua Per metterla in ambulanza Hanno dovuto prendere un telo Un telo Prenderla in 3-4 persone Poveretti che non ce la facevano Abbiamo dovuto aiutare pure noi È venuta gente preparata È tutta a posto E si sono meravigliate Perché hanno visto l'ascensore Ma l'ascensore che fa? È rotta qua Perché loro hanno le sedi Noi la mettevano sopra una sedi Che hanno loro Dentro l'ascensore sotto al garage La prendevano con l'ambulanza là sotto E veniva qua Una vergogna proprio Non ho più parole Da quando lei ha denunciato il fatto Che mancava questa benedetta firma Per far attivare l'ascensore Ad oggi è stato contattato Da qualcuno dell'Ater Della Regione Assolutamente no Vergogna ancora Vergogna, vergogna Assolutamente no E io avevo iniziato Lo sciopero della fame Perché quando dico una cosa La mantengo Allora stamattina Io non ce la facevo proprio più Quando sono arrivato qua Ho dovuto interrompere E praticamente Sono qua a denunciare Per l'ennesima volta Vergogna, vergogna, vergogna E questa volta In mezzo a questa vergogna Siccome li ho sempre ringraziati Il Presidente della Regione D'Alfonso L'assessore di Matteo Rampini Mi sembra che si chiama Il Presidente dell'Ater Non le ringrazio più Sono politici uguali A tutti gli altri A questo punto Anche se l'ascensore L'hanno realizzata Ma non l'hanno messa in funzione Non so Insomma Che stanno facendo E stamattina Siamo incappati di nuovo Con una vergogna del genere Ma Liliana come sta? Liliana non è il quadretto Tanto bello Adesso gli stanno facendo Un'attacca col contrasto Non è bello Il quadro non è bello Partono a fine giugno I lavori di riqualificazione Di Colle Parco Per un importo Di 1.300.000 euro Oggi il Sindaco di Teramo Brucchi E l'assessore ai lavori pubblici Di Giovan Giacomo Hanno spiegato Il dettaglio degli interventi Il servizio Opere di urbanizzazione Rilevanti Quali la piazza integrata Con il parco urbano Stilizzato Con essenze arboree adeguate La piazza Sarà collegata Al parco urbano Attraverso un piccolo anfiteatro Verrà sistemato Il campo di calcetto esistente Verrà rifatta La pavimentazione In erba sintetica Sistemata La recinzione E viali di accesso Sarà costruito Un edificio Adibito a spollatoio E ad attività sociali Dove potrà essere collocata Anche un'attività di bar Sarà costruito Anche un campo Per il mini basket E verrà ripulita L'intera area L'illuminazione pubblica Sarà a led E ci sarà una pista Ciclopedonale Per una lunghezza Di circa un chilometro Verranno creati inoltre Ben 100 posti auto Sono solo alcuni Degli interventi Di restyling Del quartiere di Colleparco Insomma un bel intervento Di riqualificazione urbana Perché di questo parliamo E vorrei ricordare Che questi fondi piso Fondi europei Nascono diciamo Qualche anno fa La scelta dell'amministrazione Fu quella di utilizzarli Per la riqualificazione Di alcuni quartieri Della città E abbiamo speso Abbiamo fatto interventi Alla Cona Abbiamo fatto interventi A Colle Atterrato Abbiamo fatto interventi A Piano Daccio Adesso sono previsti interventi A Colleparco Poi partirà brevissimo Anche il progetto Per invece per la Greenway Per la riqualificazione Del quartiere Gammarana Un altro bel intervento Che presenteremo Nei prossimi giorni Assessore Quali sono gli importi E i tempi Di realizzazione Di questa riqualificazione Sì di queste importanti Riqualificazioni Di Colleparco Parliamo di circa 1 milione e 300 mila euro Di fondi PISI Che dobbiamo spendere Per forza di cose Entro il 31-12 Dunque abbiamo La scorsa settimana Validato il progetto E lo andiamo in gara La prossima settimana Spero di avere la ditta Entro la fine di maggio I primi di giugno Abbiamo dato Da capitolato Circa 4 mesi Per la realizzazione Perché i tempi Sono appunto stringenti Dobbiamo concludere E pagare E collaudare l'opera Entro il 15 dicembre Occupiamoci ancora una volta Dei dipendenti Della TEM Perché licenziano noi E non gli ultimi assunti Alcune dipendenti Della TEM Sono tornate a protestare Oggi in Consiglio Comunale A Teramo Il servizio Di nuovo in Consiglio Comunale Alcuni dipendenti Alcune dipendenti Della TEM Quelle che sbrigano Fino al prossimo 30 aprile La pulizia dell'ufficio comunale La pulizia del comune E che però purtroppo Dovranno lasciare la TEM E quindi perdere il lavoro Lei ha parlato questa mattina Con l'amministratore della TEM Per chiedere cosa Noi abbiamo parlato con l'amministratore Per chiedere che cosa Come mai uscivamo noi Dato sì che parlavano di esuberi Quindi noi sappiamo che gli esuberi Sono gli ultimi entrati Volevamo sapere Per quale motivo noi Dato sì che noi possiamo benissimo Fare la pulizia nelle strade Andare al porta a porta Cioè noi mi diceva Non siete state voi A scegliere di pulire il comune Potreste fare anche un'altra cosa Certo, certo Noi facciamo parte All'Ateramo Ambiente Quindi non è che l'Ateramo Ambiente Chiude E quindi automaticamente usciamo tutti Ateramo Ambiente Parla di esuberi Quindi Personale in più Che non sono di solito I primi entrati Ma gli ultimi E cosa le ha risposto? Che non siamo compatibili Noi non possiamo Con gli altri contratti Quindi non possiamo fare La lettezza urbana Insomma Ha chiesto spiegazioni E così il contratto suo Dice che non è compatibile? No, no Che non possiamo alzare Portare il camion Noi non possiamo stare Con l'igeno urbana Insomma Cioè non siamo degli uomini Forse voleva intendere Tra virgolette E a voi basta questa spiegazione? Beh no Vedremo i nostri sindacati Cosa diranno Riguardo a questo Anche perché Non mi sembra una cosa giusta Insomma Dice che tante città Hanno delle donne Che lavorano per la lettezza urbana La patente c ci ha chiesto pure Per guidare i furgoncini E ce l'avete? No la patente c no Ma i furgoncini L'80% che lavorano con noi Che io sappia Hanno la patente b Come noi E portano comunque I furgoncini Che io sappia Non serve la patente c Quindi per questo compatibili E oggi perché qui in consiglio comunale? Vogliamo parlare con il sindaco Perché loro scaricano Al sindaco Il fatto che noi usciamo E che non possiamo Stare con la Teramo Ambiente E invece secondo voi Le responsabilità di chi è? Ma forse di entrambi Comunque vedremo i sindacati Cosa fanno Sperando Nel bene Vibrillazione nel centrodestra Teramano Che governa il comune di Teramo Adesso la richiesta pressante Di un punto della situazione Arriva anche da Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Che avverte Subito riduzione dei costi I costi dei 9 assessorati E usciamo dalla maggioranza E diretto Il coordinatore regionale del partito Gian Donato Morra Ospite questa sera Di Inside Dentro il personaggio In onda alle 21 Su Teleponte Ecco un'anticipazione Vediamo Lei per primo Nella coalizione centrodestra Si è espresso contro I 9 assessorati Di questa giunta a Brucchia Allora Ci dica un qualcosa di più Nel senso Come intende Parlare di riduzione dei costi Significa ridurre gli assessori? Questa è una mia idea Che ho esternato Al coordinatore Micheli Che lo dovrà Buttare giù In un documento Un documento politico Che riguarda altre cose 9 assessori sono troppi O c'è la diminuzione Degli assessori Oppure Se proprio sono tutti A 9 indispensabili Poi alcuni sono amici O ex amici Ma ripeto Vedo anche delle competenze Qualcuno magari in difficoltà Però ripeto Sicuramente riduzione Degli assessori O comunque riduzione Delle indennità Ma questo è un discorso Che deve fare Chi si occupa Il sindaco Nel confronto Con la coalizione Non certo con me Che sono coordinatore regionale Io entro in ballo Quando arrivano I coordinatori regionali Di Forza Italia E dell'NCD Perché altrimenti I ruoli vengono scavalcati Io ho Raimondo Michele Sbraccia a terra Stanno entrando nuovi iscritti Non è peregrina L'ipotesi anche Di un nuovo consigliere Ma ripeto Più che gli eletti A me interessa la gente Ci sono uomini e donne Che sono interessati A una destra nazionale E sono interessati Anche a una destra Al comune di terra Probabilmente Auspico molto Nuovi sguardi Che ci incrociano Nuove emozioni E persone nuove Perché non è detto Che sempre gli stessi Devono rappresentare Un'area politica Che non è di nessuno Io ho sempre incarnato L'idea che Parte del diritto naturale Incarna i valori Dalla destra Importanti novità Sono in arrivo Per tempi e modalità Di concessione Dei loculi cimiteriali A Teramo La materia è stata disciplinata Nel nuovo regolamento Di polizia mortuaria Che l'assessore comunale Mirella Marchese Si appresta a portare In consiglio Vediamo Concessione dei loculi Graduatori E trasporto funebre E rivoluzione Nel nuovo regolamento Comunale di pulizia mortuaria E gestione dei servizi cimiteriali Che l'assessore comunale All'anagrafe Mirella Marchese Sottoporrà Al voto del consiglio La prima novità Riguarda i tempi Delle concessioni Attualmente fissate a 40 anni Più una proroga Di eventuali 10 Nel nuovo regolamento La proroga Verrà estesa a 20 anni Per concedere più tempo Al completamento Della mineralizzazione Delle salme Inoltre La concessione stessa Potrà essere Parcellizzata Tanto per fare un esempio Se una persona in vita Che ha acquistato Un loculo per 40 anni Dovesse morire I familiari Potranno decidere Di far ripartire La concessione Di 40 anni Dal momento del decesso Pagando però Solo il supplemento Dell'oculo Per il tempo occupato In vita Il documento Fissa anche regole precise Per stabilire La decadenza Delle concessioni È il caso ad esempio Delle aree cimiteriali Date in uso Per edificare Cappelle e porticati Se per qualsiasi motivo I familiari del defunto Non dovessero rispettare I tempi previsti Per l'edificazione Dei manufatti E la tariffa Non viene onorata Entro i 12 mesi Successivi alla scadenza Il comune Avrà facoltà Di ritenere La concessione decaduta E rientrare In possesso Delle aree Novità sostanziali Riguardano anche Lo scorrimento Delle graduatorie Visto che D'ora in avanti C'è la possibilità Di una deroga Ma introdotta prima I genitori O i congiunti stretti Del defunto Potranno chiedere La concessione Dei loculi liberi Immediatamente vicini Derogando così A rispetto Delle liste d'attesa Regole vengono fissate Anche per il prelievo E il trasporto Dei defunti A partire dal luogo Del decesso Fino alla chiesa E poi al cimitero Il nuovo regolamento Fissa infatti I paletti precisi Sui tragitti percorribili E sul rispetto Degli orari consentiti Per l'attività Del cerimoniale funebre Arriva una boccata D'ossigeno Alle manutenzioni Del comune di Teramo Che ha recuperato 450 mila euro Di questi 200 mila euro Sono stati Recuperati dai canoni Che i gestori Della telefonia Pagano al comune Gran parte dei fondi Sarà destinata Agli asfalti E alle frazioni Sentiamo Oltre alla Bucalossi Il comune di Teramo Ha recuperato Circa 450 mila euro Per le manutenzioni Una boccata d'ossigeno Sì Quello delle manutenzioni È un settore Che storicamente Negli ultimi anni Visto i problemi Di bilancio È quello che Dove soffriamo di più Effettivamente Anche perché Vorrei ricordare Le manutenzioni Vengono fatte Solo esclusivamente Con i fondi Provenienti Dalla Bucalossi Ottingendo a qualche mutuo Noi come Benzapeti Di Muti Non ne abbiamo fatto più E non possiamo farne Diciamo Nei prossimi anni Di Bucalossi Purtroppo Quest'anno Come succede spesso Quando ci sono Le emergenze Sono dovuti andare a coprire Sia il piano neve Ma sia poi successivamente Il ripristino Delle strade Che erano franate Quindi almeno Da chiarire subito Che questi 450 mila euro Non possono essere utilizzati Per le frane Sì assolutamente Quello che abbiamo pensato Appunto come dicevo Viste che Gran parte da Bucalossi Si è impegnata Per le frane C'era la necessità Di non stare comunque Con le mani per mano Di ingegnarci E trovare altri fondi Da destinare Sia nella città Ma sia nelle frazioni E così abbiamo fatto Abbiamo inserito Nel prossimo piano triennale Una voce dedicata A posto per le frazioni Che si chiamerà Cura, decoro E manutenzione Dei centri frazionali Dove sono impiegate Una previsione Di 100 mila euro Dai proventi Della cessione Che faremo Dei vari frustri Quindi delle varie aree Un'altra voce importante Che riguarda Un po' il capoluogo E un po' le frazioni Che sono circa 200 mila euro Invece li recuperiamo Attraverso i canoni Che ci pagano a noi I gestori Delle telefonie a mobili Quindi un 200 mila euro L'abbiamo destinata a quello E poi ci stava Una famosa pratica Che venne in consiglio comunale Di 150 mila euro Di una cessione In terreno Che abbiamo destinato Completamente Agli asfaldi Questo appunto Per cercare Di andare oltre Quello che è Il normale budget Che questo assessorato Ha per le manutenzioni Che di solito È basso in sé per sé Quest'anno in particolare È quasi nullo Quindi Ci siamo ingegnati In un'altra maniera La regione Abruzzo Cosa aspetta Nominare il garante Dei detenuti Il 2 agosto del 2011 Anche in Abruzzo È stata approvata La legge Che prevede L'istituzione Dell'ufficio Del garante Delle persone Sottoposte a misure Restrittive Della libertà personale Però Non si è ancora Proceduto Alla nomina Sono passati Quasi 4 anni Dall'approvazione Ci sembra doveroso Invitare il consiglio Regionale A procedere Alla nomina E quanto emerso Da una conferenza stampa Alla quale hanno Partecipato Maurizio Acerbo Di Rifondazione Comunista E Vincenzo Di Nanna Di Amministia Giustizia Libertà La legge Proposta dall'allora Consigliere regionale Acerbo Fu approvata Dopo molti anni Di interventi Da parte di Rifondazione Comunista E radicali Finalmente L'Abruzzo Faceva un passo In avanti Colmando una lacuna Rispetto alle altre Regioni italiane Che da tempo Avevano istituito Questo importante Ufficio La situazione Dell'Abruzzo È simile a quella Della regione Sicilia Che ha approvato L'istituzione del garante Dal 2005 Ma non lo ha Ancora Nominato Tante promesse E niente più Duro attacco Del presidente Di Confcommercio Pescara All'amministrazione Comunale Pescarese Alessandrini È riuscito A far peggio Di Mascia Dice Ardizi Vediamo Stamattina ho ricevuto Un po' di telefonate Accolate Pescara Centa muore E non ci vuole Molto a vedere Che Pescara Cento sta morendo Che le vetrine Si chiudono Che le estate Sono buie Io pensavo Che dopo la giunta Mascia Non ci stesse Il peggio E io invece Mi ritrovo Con il peggio Eppure L'entusiasmo La possibilità Di incontrare Di dialogare Di confrontarci Di proporre Io ho fatto Una serie di lettere Riservate al sindaco Di Pescara Non le faccio Non le faccio più Non le faccio più Adesso mi dicono Andiamo a riconsegnare Le licenze Riconsegniamo Le schede elettorali Riconsegniamo Non lo so Che faremo Certo che così Questa Pescara Muore E noi non vogliamo Morire con Pescara Casa Artigiani Abruzzo Appena sottoscritto Un nuovo accordo Per la ripresa 2015 Con l'Associazione Banche Italiane L'ABI A favore Delle piccole e medie imprese Abruzzesi Grazie a questa intesa Gli artigiani E le piccole e medie imprese Della nostra regione Potranno chiedere Anche nel 2015 Alcune facilitazioni creditizie La sospensione Per 12 mesi Della quota capitale Delle rate Dei prestiti In corso Oppure L'allungamento Dei mutui In corso Massimo per 3 anni Chirografari E per 4 anni Ipotecari L'allungamento A 9 mesi Delle scadenze Del credito Su anticipi In relazione Ad insoluti Di pagamento A beneficiarne Potranno essere Tutte le imprese Che non hanno Usufruito Delle medesime Agivolazioni Nei due anni precedenti E che comunque Non siano classificate Dal sistema bancario Come scaduti Deteriorati E inadempienze Probabili Il comune di Giulianova Chiede un incontro Con il presidente Dell'Ater Per parlare Dei problemi Delle case popolari Soprattutto quelle Del quartiere Annunziata Vediamo L'Ausica Camelli Assessore Anche A tante deleghe Anche a quella Relativa Al politico Residenziale Case popolari E quant'altro Ci sono state molte Lamentelle Negli ultimi tempi Dei quartieri Popolari Sullo stato Di queste Abitazioni So che avete Chiesto un incontro Con il nuovo Presidente Dei case popolari Sì Io All'indomani Di un'assemblea Pubblica Del quartiere Annunziata Che risale Quasi Credo due mesi fa Feci subito Richiesta Al presidente Dell'Ater Di un Sopralluogo Nelle varie palazzine Che hanno Tantissimi problemi Non avendo risposta Nell'ultima settimana Abbiamo risollecitato E il Presidente Mi ha assicurato Che la prossima settimana Massimo L'altra Comunque sarà Giulianova Per fare Questo sopralluogo E per ascoltare Anche i cittadini Per levare Lamentelle Che ci sono Come uffici Stiamo facendo Anche Accertamenti Delle case Dei proprietari Insomma Degli assegnatari Diciamo Delle case Che abbiamo Controlli State facendo Quei controlli Relativi A se tutti Hanno ancora Mantenuto I requisiti Per mantenere Perché in passato Addirittura 15 abitazioni Sono state tolte Sì 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 Ne abbiamo Revocate Tante Di case Quindi siamo Comunque Ovviamente Magari Non sono Lavori Che fanno Sempre Notizia Però L'ufficio Lavora In maniera Costante Dopo anni Di attesa Riaperta Via Dei Tintori Nel centro Storico Di Chieti Non è un'opera Elettorale Ma un impegno Preso e mantenuto Con la città E quello che dicono Il sindaco di Primio E l'assessore Comunale Colantonio Vediamo Riconsegnato Alla città Di Chieti Proprio In centro Storico Il tratto Viario Pedonale Di Via Dei Tintori Messo In sicurezza E riqualificato Con fondi Comunitari Por Feser Uno spazio Importante Che torna Ad essere Illuminato E che riapre A vent'anni Dal crollo Di alcuni Edifici Della zona Che ne Determinarono La chiusura L'intenzione Dell'amministrazione È quella Di completare Annuncia Il sindaco Di Primio La riqualificazione Dei quattro Alloggi popolari Che il Comune Acquisì Quali beni Espropriati A seguito Del crollo Che potranno Essere messi A disposizione A canone Concordato I lavori Per complessivi 140 mila euro Hanno riguardato Il ripristino Del piano stradale E della gradinata Con materiali Di pregio Quali Travertino E Porfido Il completamento Di tutti i sottoservizi La realizzazione Di ringhiere E il posizionamento Della nuova pubblica Illuminazione Con Lampioni Di Foggia Storica L'amministrazione Comunale Ha impresso Su quest'area Una forte azione Di recupero E valorizzazione Ha spiegato L'assessore I lavori pubblici Con l'Antonio Nel 2011 È stato riaperto L'ipogeo Di Porta Pescara Di proprietà comunale Su cui sono stati investiti 34 mila euro Visitato Ad oggi Da quasi 10 mila persone Fra turisti Cittadini E scolaresche Nel set di un film fantasy Mentre Fra qualche settimana Partiranno i lavori Di riqualificazione Di via Toppi A cui via dei tintori Dall'omonima strada Dal prossimo sabato 11 aprile Ripartono a Teramo Gli appuntamenti Di Shop Art La manifestazione Che si svolge Da sei anni In via d'annunzio Vediamo Sabato 11 aprile A Teramo In via d'annunzio Ripartono Le iniziative Di Shop Art Sì Finalmente Reiniziamo Anche perché Sono eventi Attesi dai terramani Abituati ormai A vedere Via d'annunzio Via Carloforti In allegria Con artisti Artigianato e Arte Noi ringraziamo Innanzitutto La fondazione Tercas Per poter Reiniziare E anche il comune Perché comunque Se ci sostiene In altra maniera Ci viene incontro Per poter Reiniziare Questi sei eventi E' il sesto E' il sesto anno Che noi organizziamo In queste vie Trasversali Per animare Appunto la città Di Teramo Per poter Risvegliare Anche l'artigianato Che oggi Noi parleremo Oltre All'artigianato Che noi Tratteremo E' l'arte Applicato Al tessuto E quindi Ricamo Arte applicata Al legno Arte applicata Al ferro E così via E nella giornata Di sabato Gemellaggio artistico Guardia Grele Teramo Ma soprattutto Una conferenza Sul paliotto Il paliotto E' l'opera Più importante Di Nicola Da Guardia Grele Noi ci siamo Incontrati Con gli amici Dell'ente Turismo Artigianato Turismo Bruzzese Di Guardia Grele Abbiamo proposto Con Shop Art Questo gemellaggio Che è stato accolto Favorevolmente Ovviamente Quindi In questo evento Ci sarà Il sindaco Di Guardia Grele Il sindaco Di Teramo Ci saranno I presidenti Delle due Associazioni Che si gemellano Shop Art L'ente mostre Dell'artigianato Artistico Di Guardia Grele Su un paliotto Che è del 1433 1448 15 anni Di lavorazione E' interessantissima E' una delle opere Più belle Di tutto il centro Italia E di grande valore Dagli striscioni Di strisci alla notizia Testimonial Del progetto Di educazione stradale Di ACI Polizia Municipale E amministrazione Comunale Di Pescara A centinaia Di studenti Cristiano Militello Spiegherà Che anche in discoteca E' necessario Pensare alla vita E guidare Con la testa Vediamo il servizio Cristiano Militello Per una volta Ripiega Agli striscioni E diventa Il protagonista Di Pensa alla vita Guida con la testa Progetto di educazione Stradale Che ACI Amministrazione Comunale E Polizia Municipale Di Pescara Insieme alla regione Abruzzo Promuovono in una campagna Di sensibilizzazione Che culminerà Appunto Con l'evento Di giovedì 16 aprile Per un'intera giornata La discoteca Quattro vele Di Viale Riviera Nord A Pescara Per la prima volta Porteremo un format Diverso Non andremo noi Nelle scuole A parlare Non andremo a illustrare Le conseguenze Degli incidenti Non andremo a far vedere Solo dei filmati Questa volta Li portiamo noi In una discoteca Quindi sarà veramente Un'occasione diversa Per affrontare Il problema Un problema gravissimo Un problema che affligge La nostra società E che noi speriamo Con queste iniziative Di cominciare a ridurre L'importante La cosa fondamentale È educare A prevenire Educare Alla legalità Per questo Abbiamo curato Insieme Con l'AC Italia E con Degli istituti scolastici L'intervento Proprio mirato A dei ragazzi Ancora In fase Di prendere la patente Proprio per Far loro capire Quali sono Gli effetti Tragici Dell'essere Furbi Dell'essere Più in gamba Degli altri Del ritenersi Immuni Da pecche Al volante La regione Ha ritenuto Degno E meritevole Il progetto Presentato Dal comune Di Pescara E quindi Ha cofinanziato Su un progetto Di 20.000 euro 17.800 euro Manifestazioni Ed eventi Tutto l'anno A Montorio Alvomano Il comune Ha presentato Il cartellone Che si chiama Quattro stagioni Proprio perché Copre tutto L'arco temporale Dell'anno Vediamo Assessore Alfonso Di Silvestro Montorio Presenta oggi Il cartellone Unico Degli eventi Quali sono I punti Qualificanti Di quello Che avete Allestito Sicuramente Quattro stagioni Che è il nome Del calendario Unico Annuale Del comune Di Montorio Alvomano E' un brand Fondamentalmente Che abbiamo creato Affinché si Cresse anche Un'identificazione Di quello Che è il calendario Il calendario Vuole essere Una sorta Di proposta Per le associazioni Di essere Unite E Lavorare insieme Per creare Una sorta di palinzesto Del territorio Per quello Che concerne Gli eventi In maniera tale Non sopporsi E creare un'offerta Anche per il cittadino E per il turista Che potrebbe trovarsi Nella nostra zona A visitarci E quindi Trovare anche Qualcosina Su cui andare A muoversi E trovare Quindi qualcosa Di appetibile Da un punto di vista Anche Del culturale Dell'evento In sé Noi abbiamo fatto Anche un incontro Con le associazioni Le abbiamo sentite Quindi questo calendario Nasce di concerto Proprio con le associazioni Le associazioni Disponibili Anche pronte Al confronto E a spostarsi Nel momento in cui C'è una sovrapposizione Il calendario Annuale Si compone Tra l'altro Di quattro Sotto calendari Che sono Stagionali Ecco perché Quattro stagioni C'è un'estate Una primavera Un autunno E un Natale Abbiamo visto Che il cartellone Spazia anche Diciamo Dall'arte All'enogastronomia Sì Cerchiamo di Condensare Tutte quelle che sono Le prerogative Del nostro territorio Chiaramente anche Per quello che è Una cultura E degli eventi Rivisti anche In chiave turistica Perché noi dobbiamo Comunque promuovere Il territorio E per farlo Dobbiamo mettere In vetrina Le cose più belle Che abbiamo Questo calendario Tra l'altro Nasce anche Con la volontà Di andare A interagire Anche con Gli altri comuni Dell'Alto Vomano Per creare poi Casomai Un calendario Che racchiude Un po' tutte Le manifestazioni principali Della zona Limitro Fan Montorio Quindi per creare Un'ulteriore Calendario Un'ulteriore offerta Per chi ci viene a trovare Vi ricordo Questa sera L'appuntamento Con le due Trasmissioni Del giovedì sera Su Teleponti Alle 21 Inside Curata e condotta Dal nostro direttore Roberto Almonti Inside Dentro il personaggio Il personaggio Questa sera L'ospite Gian Donato Morra Segretario regionale Di Fratelli d'Italia Alleanza nazionale A seguire La trasmissione Curata e condotta Da Dorotea Mazzetta Controvento Che pone l'attenzione Su Torre Bruciata Di Teramo E adesso È arrivato però il momento Della rubrica Cartacanta Di Giancarlo Falconi Tutti noi ce la prendiamo Con la storia Ma io dico Che la colpa è nostra Evidente che la gente Poco sedia Quando parla Di sinistra a destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra a sinistra 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 Basta 122esima puntata Di Cartacanta Oggi parliamo Di una sentenza Della Corte Costituzionale Parliamo di una sentenza Della Corte Costituzionale Che ha colpito I dirigenti Delle agenzie Delle entrate Quei dirigenti Che non sono diventati Dirigenti tramite concorso La sentenza Parla di inammissibilità Per gli stessi dirigenti E la cosa Nella fattispecie Può essere stesa Anche a altri enti Cosa molto grave Attenzione Vi leggo un articolo Dopo la sentenza Della Corte Costituzionale I 767 dirigenti Legitimi Delle agenzie Delle entrate Sono stati retrocessi Al ruolo originario Di funzionari Con relativa decurtazione Degli stipendi Un declassamento Che crea non pochi problemi Al fisco italiano Che si è visto Decapitato Da gran parte Dei livelli apicali Ridotti A 300 Su circa 41 mila dipendenti Qual è la soluzione La soluzione Ponte È l'ipotesi Del concorso Intanto Come ovvio Si cerca una soluzione Quella ponte È stata individuata Nell'attribuzione Ad interi Ai dirigenti Legittimi Rimaste nelle funzioni Recentemente Assegnate A quelli Illegittimi I quali potranno Comunque operare Seppur degradati A funzionari E con stipendi Da funzionari Attraverso Le deleghe Ricevuti Da propri superiori Entro la fine Della settimana Inoltre Si prevede Un incontro Tra il governo E vertici Delle agenzie Interessate Dalla pronuncia Di incostituzionalità Per fare il punto Della situazione E trovare Una soluzione Strutturale E non transitoria La cosa grave È un'altra Perché oltre A Equitai All'agenzia Delle entrate La sentenza Della corte Costituzionale Può essere estesa Anche Agli enti locali Al comune Alla provincia Alla regione Esistono Dei funzionari Che sono diventati Dirigenti In questi enti Senza concorso Sono nulli O sono validi I loro atti Firmati Le loro Determine Firmate A Teramo C'è qualcuno Che è diventato Dirigente Senza concorso In provincia Di Teramo Nei comuni Ci sono altri Dirigenti Diventati dirigenti Senza concorso Andiamo incontro All'annullamento Dei loro atti Questa domanda Ce la poniamo Solo noi O se la pongono Anche gli amministratori Carta canta Previsioni in Abruzzo Al mattino variabile Con deboli rovesci di neve Sulle zone montane Moderatamente nuvoloso Sulle zone litorane E collinari Nel pomeriggio variabile Con deboli rovesci di pioggia Lungo la dorsale appenninica Parzialmente nuvoloso Sulle zone orientali Tra sera e notte Poco nuvoloso Sulle zone interne E sui rilievi Sereno sulle zone marittime Temperature stazionarie Massime comprese Tra 10 e 13 gradi Nelle conche aquilane e marsicane Tra 15 e 18 gradi Sulle pianure adriatiche Lenti deboli O moderati settentrionali Mare mosso In provincia di Teramo Al mattino variabile Con deboli rovesci di neve Sulle aree montane Poco nuvoloso Sulle aree litorane E collinari Nel pomeriggio variabile Con deboli rovesci di pioggia Sui massicci appenninici Sereno Sulle aree orientali Tra sera e notte Parzialmente nuvoloso Lungo la dorsale Sereno sulle zone adriatiche Temperature stazionarie Massime comprese Tra 11 e 14 gradi Nelle pianure dell'entroterra Tra 12 e 15 gradi Sulle coste Venti deboli O moderati settentrionali Mare poco mosso O mosso Apriamo con il calcio di Lega Pro Un solo allenamento quest'oggi Per il Teramo I ragazzi di Mister Vivarini Si sono ritrovati nel pomeriggio Sul sintetico Dello Stadio Buonorisi Di Piano Daccio Per sostenere l'ultima seduta Settimanale Prima della rifinitura Tra i biancorossi Di nuovo a disposizione Anche di Akite Che in coincidenza Con la Pasqua Ha usufruito Di due giorni Di vacanza extra Trascorsi dai familiari In Francia Intanto in serata I microfoni Della Radio Nazionale Si accenderanno Sui gemelli Teramani del Gol Donna Rumma E la Padula Infatti interverranno Nel corso della trasmissione Zona Cesarini Condotta da Luca Purificato In onda alle 21 e 45 Sulle frequenze Di Radio Rai 1 Ieri nel girone B Di Lega Pro Unica Si sono disputati Due recuperi Nel pomeriggio Pistoiese Ancona E' finita 1 a 1 Vantaggio Toscano Su rigore D di Bari E pareggio Dorico Di Lisai Anche nel big match Reggiana Pisa 1 a 1 Che si è giocato In serata Botta e risposta Tutto nella ripresa L'iniziale vantaggio Ospite Realizzato da Misuraca Risposto Petkovic A 8 minuti dalla fine Il pareggio maturato Al Mapei Stadium Accontenta anche Le due formazioni abruzzesi Del raggruppamento La capolista Teramo Che resta a distanza Di sicurezza dal terzo posto E l'Aquila Che vede l'obiettivo Playoff Ancora alla portata Ma andiamo a vedere La classifica Aggiornata alla luce Di questi risultati Di ieri Al comando Con 65 punti In splendida solitudine C'è il Teramo Poi Lascoli A quota 60 Reggiana 56 L'Aquila 54 Pisa 52 Spal e Ancona 49 Lucchese 47 Pontedera 45 Tutto Cuoio 44 Carrarese 41 Gubbio 39 Grosseto 38 Sant'Arcangelo 37 Prato 36 Poi a quota 35 Savona e Pistoiese 33 punti per il Forlì 29 per il Pro Piacenza E 26 per il San Marino Che è ultimo In classifica Dopo la batosta Incassata dal Giulianova Nel turno prepasquale Nel derby Con il San Nicolò Il tecnico Francesco Giorgini Si autodefinisce Allenatore operaio Ed esprime tutta l'amarezza Per il momento Che sta vivendo La società E di riflesso La squadra E sul Teramo Vicino alla Serie B Dice E la dimostrazione Che una società Forte nel calcio Fa la differenza L'intervista Allenatore operaio Sì Meglio Meglio essere operaio Allenatore Che altre cose Certo Naturalmente Uno magari si fa Anche un'alternativa Un domani Insomma Ma parliamo Dell'oggi Noi dobbiamo ancora Lottare per la salvezza Vero? No questo Io lo so Da molto tempo Noi dobbiamo ancora Fare dei punti Per la salvezza Che non sarà facile Che è normale Se mi riferisco Alla partita Dell'ultima partita Col San Nicolò Non nemmeno ci salveremo Ma io penso Che sarà solo un episodio Speriamo che Da domenica Cambia la musica Tu avevi fatto Una battuta Molto simpatica Quando ti avevano detto La squadra Sembrava in vacanza Tu hai detto No Il San Nicolò Ci poteva stare in vacanza Te la sei spiegata Adesso A distanza di giorni Quella prestazione Così opaca Io l'unica cosa Che mi sono spiegato È questo Che spesso Le sconvitte È anche importante Per fare La valutazione Di certi giocatori Quindi Perché In qualche situazione Una vittoria Maschera Tante cose E quindi Ma questa partita È servita anche Per valutare Per il futuro Del Giuliano Se ci sarà la salvezza E tu tra l'altro Hai detto Se rimango Insomma Questa partita Mi aiuta A fare certe scelte Sì No Ormai Già l'ho fatto Quindi Non è che Non so Come andrà a finire La situazione Perché prima Ci dobbiamo salvare Poi c'è una cosa Che ancora non hai detto E che però Insomma Ci tieni molto A dire Cioè La società Che verrà Ma è normale Io mi auguro Che possa Subentrare Con la nuova società Anche perché Così Non penso Che si possa andare avanti E quindi A me sinceramente L'unica cosa Che mi fa piacere Per Giuliano Dopo c'è Giorgino Non c'è la stessa cosa Però Che Giuliano Possa avere un futuro Perché sinceramente Io ho iniziato A giocare con Giuliano A 66 A 67 Ma una situazione Del genere Non è mai capitata E il Teramo in B Che ci dici Pesa un po' Su Giuliano Calcistica Sta cosa Non senti parlare No Guarda Io ti dico la verità A me personalmente Non è che mi pesa molto Perché io ne sento parlare Molto di questa situazione Nel calcio Purtroppo La dimostrazione È questo Che sia Allenatori Giocatori Quelli che volete Però se non hai La società Tu guarda Nel Parma A Teramo Per certe cose C'è da ammirarlo Perché se non entrava Sicuramente un presidente Come Campidelli Ma non lo conosco poco Però questo è partito Sempre dai dilettanti Stava a Canzano E quindi E quindi E la dimostrazione Che è la base Tutta La società Dopo Giustamente La squadra Qualsiasi cosa Però se non hai Una società Non puoi andare avanti Ed ora la palla a mano Femminile In Serie A2 Colpo di mercato Del team Teramo La società Biancorossa Ha raggiunto l'accordo Con la 48enne Mia Radoi Atleta che vanta Nel suo palmarès 11 scudetti E 10 coppe di Romania La Radoi Che in carriera Ha collezionato Oltre 100 presenze Con la casacca Della sua nazionale Torna a Teramo A distanza Di 10 anni Nella stagione 2004-2005 Infatti aveva giocato In A1 Con la maglia Dell'allora HC Teramo 2002 La giocatrice Farà l'esordio Con la sua nuova squadra Il 12 aprile Sul neutro Di Grosseto Nel corso della prima fase eliminatoria nazionale Contro la Dinardo Sassari E l'Euromed Mugello Ad agosto Si terrà la 53esima edizione Della mitica corsa automobilistica In salita Le svolte di Popoli Il prossimo 12 aprile La manifestazione Avrà un gustoso prologo Il primo Motor Expo Un momento voluto dagli organizzatori Per aggregare gli appassionati Di moto e auto Il servizio Parliamo di motori Parliamo delle svolte di Popoli Con il presidente Della SD Svolte di Popoli Carlo Traficante Carlo L'appuntamento 7, 8 e 9 agosto Si avvicina Ma quest'anno Per la prima volta Ci sarà un prologo Molto particolare Si Abbiamo il 12 di aprile Il Motor Expo Diciamo che ci siamo inventati Abbiamo messo in piedi Questo evento Che serve A pubblicizzare L'evento Del 7, 8 e 9 Quindi la cronoscalata E serve Come dire A stimolare Un po' tutto l'ambiente Del Del motorsport Sempre facendo riferimento Alla gara Del 7, 8 e 9 Quindi è un'esposizione In cui ci saranno Sia macchine Stradali Sia macchine Da competizione Moto Kart Tutto ciò che ha a che fare Con il mondo Dello sport Sarà Carlo Anche l'occasione Per i piloti Per presentare Un po' la propria stagione E più in generale Diamo l'appuntamento Agli appassionati Per il 12 aprile Sì Sarà un momento importante Per la presentazione Dei piloti Abruzzesi Per la stagione Che sta per iniziare Ci siamo Anche inventati Abbiamo messo in piedi Anche un'idea Che è quella Di fare Come dire Da tramite Da fare Da punto di riferimento Per chi ha Intenzione Di intraprendere La strada Del motorsport Quindi i giovani Che hanno voglia di fare Li indirizzeremo Negli aspetti Amministrativi Negli aspetti Pratici Non solo come Piloti Ma anche come Attività sportiva Nel senso Parliamo dei commissari E quant'altro Tutto ciò che ha a che fare Con il mondo Dell'automobilismo sportivo Bene Vi ricordo Alle 21 Inside La trasmissione Condotta Roberto Almonti A seguire Controvento La trasmissione Condotta Dorotea Mazzetta E poi domattina Alle 7 puntuali All'appuntamento Con Prima di Tutto Grazie Buona serata E arrivederci Grazie